Al peggio non c'è mai fine, soprattutto quando poi è volontario e deliberato. Dopo il primo maggio la pineta di Ponte Metauro è diventata una pattumiera a cielo aperto. Trasformare un giorno di festa da passare all'aria aperta facendo una scampagnata con amici o parenti, fare un picnic approfittando di un bello spazio verde e gustarsi una grigliata come piatto della giornata in uno scempio ecologico e in un lampante esempio di pratiche incivili e totale assenza di buona educazione è molto facile. Per rendersi conto dell'ignoranza ambientale di cui alcune persone sono dotate bastava fare una passeggiata nella splendida pineta di Ponte Metauro questa mattina, patrimonio comune della città, per rendersi conto fino a che punto ci si può spingere nell'ignorare deliberatamente i più normali regole del buonsenso e dell'educazione. Entrando dal cancello principale si colgono i primi segni dello scempio, bucce di alimenti, cartacce, lattine schiacciate, carte qua e là. Ma è arrivando sul fondo della pineta che si ha l'esatta percezione di quanto si è potuto e saputo fare di peggio. Il campo da calcio è un'infinita distesa da porta a porta di ogni tipologia di viveri da asporto e su pellettili al seguito, naturalmente rigorosamente di plastica purissima, bicchieri, bottiglie, piatti, forchette, tovaglioli, imballaggi di acqua minerale, lattine in alluminio schiacciate e cassette della frutta interamente abbandonate. Giocarci ora sarebbe una corsa ad ostacoli o meglio al rifiuto. Ma lo scenario del fondo della pineta è desolante. Cataste e cataste di immondizia che superano anche i tavoli in legno e rifiuti ovunque. Non c'è metro d'erba libero da immondizia. Ma la cosa peggiore che puntualmente si ripete ogni anno assieme all'immondizia abbandonata è la pericolosissima e sciagurata abitudine di accendere fuochi e carbonelle in piena pineta, a ridosso di alberi, siepi, macchie verdi facilmente infiammabili. E che dire poi delle braci lasciate lì a far bella mostra di sé a testimonianza ai posteri della sbracciolata collettiva. Alcune di queste addirittura lasciate lì a contatto con il prato ancora calde e pericolosamente vicine agli aghi di pino o ai tronchi stessi che solo un miracolo o l'assenza di vento non hanno trasformato Pineta, Alberi e Prato in un barbecue gigantesco, tanto per restare in tema.